Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire Io Milagno, al nome di Dio e del guadagno.